A sostenere la candidatura di Enzo Foschi vi è anche qua Cioffredi, che ormai lo conosciamo, è stato candidato per l'Europa lo scorso anno. Perché sostenere Enzo Foschi, Cioffredi? Perché Enzo Foschi in questi cinque anni ha lavorato molto bene, perché ha un'idea di politica pulita, perché è un ragazzo che si è impegnato davvero senza alcun interesse personale per i bisogni delle persone, per la voglia di organizzare centri culturali, sportivi per i ragazzi del Lazio e di Roma. Enzo Foschi è l'espressione di una bella politica che spero possa accompagnare la vittoria di Emma Bonino per un governo che nel Lazio dia dignità e soprattutto che non consenta il rientro negli uffici della regione Lazio della peggiore destra che abbiamo in Italia, che purtroppo si trova a Roma. Buona candidatura allora. Grazie, grazie e soprattutto un sostegno a Emma Bonino e a Enzo Foschi.